Baradino Fiorilli, la misericordia sempre attiva in questi giorni per il sisma del Centro Italia, intanto qual è il punto della situazione? Dal punto di vista dei soccorsi si è stabilizzata la situazione in quanto abbiamo per fortuna una grande quantità di volontari e professionisti presenti sui posti del sisma. Noi ieri abbiamo fatto rientrare la nostra seconda squadra intervenuta prontamente, siamo in attesa di disposizione da parte dell'UGEM che è l'ufficio gestione emergenza di massa delle misericordie e abbiamo concluso la raccolta di viveri che ripetiamo è stata sospesa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in quanto per ora non c'è più necessità. Tutti i beni raccolti sono stati inventariati, trasmessi via mail ai campi e man mano saranno consegnati a seconda delle esigenze. Proprio perché oggi portare troppa roba in maniera scomposta significherebbe comunque appesantire la situazione e non essere d'aiuto. Quali saranno i prossimi passaggi? Cosa state aspettando in particolare? Quali potranno essere i prossimi scenari? I scenari saranno quelli speriamo soltanto della gestione ordinaria dei campi, almeno che ci siano altre scosse ma questo ci auguriamo che non accada. La gestione ordinaria del campo sarà una situazione che durerà a lungo e quindi oggi c'è l'enfasi emotiva di dare una mano. Nei prossimi mesi sarà necessario farlo continuamente e quindi noi siamo pronti a essere d'aiuto laddove ci sarà richiesto e nel modo in cui ci sarà richiesto. Quindi un'emergenza a lunga scadenza diventa una cosiddetta emergenza ordinaria a cui dovremmo far fronte nei prossimi mesi che credo saranno lunghi anche tenendo conto che ci sarà la stagione invernale. Per chiudere, in questi giorni gli uomini impegnati della misericordia cosa vi hanno riportato? Qual è stato il momento più difficile o le fasi più difficili? Guardi, ho avuto le impressioni della prima squadra che ho inviato a pochissime ore, sono stati tra i primi quasi in assoluto ad arrivare sui luoghi. Parliamo di soccorritori esperti che hanno fatto già altre esperienze, non ultima quella dell'Aquila e devo dire che sono tornati sconvolti. Parlo di persone purtroppo abituate a certe situazioni quindi evidentemente nei loro occhi c'era tutto il dolore di una situazione drammatica vissuta sul posto. Credo che pochissime parole di racconto ma molti sguardi e molte situazioni ci hanno raccontato e espresso molto più di quello che si potrebbe dire a parole. Comunque una situazione davvero drammatica.